Piove, 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 ma non è fuori, è qui dentro, nell'anima. Ancora stamattina ho preso il mio bastone, lo mosso su e giù. Ma cos'è che mi succede? Piove, 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 ma non è fuori, è qui dentro, nell'anima. Piove, piove, ma non è fuori, è qui dentro, nell'anima. Ho portato il bastone nella spiaggia con papà, l'ho suonato, l'ho suonato e tanta gente ci sarà. Poi dopo c'è la gente che batteva le mani, tutti insieme, tutti insieme, sulle mani. Piove, 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 ma non è fuori, è qui dentro, nell'anima. Piove, piove, ma non è fuori, è qui dentro, nell'anima. Piove, piove, ma non è fuori, è qui dentro, nell'anima. Io alla fine ho messo la fiusura standard che lui ha di questo tipo di reggae. Voi siete andati avanti a cantare e ci stava perfettamente, perché la struttura proprio è quella. Non gli interessa che vada troppo in là, è quella. Altri trattori, volontari, ci stava perfettamente.